Mister Monti, una partita difficile, accesa ma anche corretta, 0-0 con la capolista, qual è la sua impressione? Visto il primo tempo per noi è un ottimo risultato, abbiamo fatto un buon secondo tempo con qualche conclusione con pistola, la traversa con esposito, però il primo tempo il pianura ha preso un palo, ha fatto una bella parata mennella quindi ha giocato meglio di noi oppure diciamo che noi non abbiamo giocato il primo tempo e noi se lo posso assicurare siamo una squadra che sa giocare, però eravamo molto contratti, molto preoccupati di questa partita per il fatto che forse se la perdevamo il pianura prendeva ulteriore vantaggio e anche noi in classifica perdevamo colpi, insomma perché io sono convinto che la nostra squadra è una squadra che arriverà nelle zone alte della classifica, adesso non so, primo, secondo, non lo so, però è una squadra che secondo me arriverà nelle zone alte, quindi visto il primo tempo che non mi è piaciuto affatto, secondo tempo bene, bravi, tatticamente, non hanno concesso niente, hanno preso la traversa, pistola ha fatto due buone conclusioni, insomma si sono stati un po' più positivi e propositivi. Hanno fatto piacere gli applausi del pubblico di casa sotto la tribuna? Ma è stata una cosa bellissima perché diciamo io qua ho passato un anno e mezzo, bellissimo, ho tanti amici, abbiamo vinto un campionato di promozione, stavamo facendo bene in eccellenza e quindi diciamo sono sempre contento di rivenire a pianura come in altri posti in campagna dove ho allenato, sono sempre stato accolto bene e di questo sono fiero e contento. Mister, una partita che poteva finire con qualsiasi risultato, il primo tempo tantissime occasioni per il pianura calcio, sul finire del secondo tempo invece ci è andato vicino al gol Lischia, un pareggio che la soddisfa e che comunque il pianura è primo in classifica. Assolutamente sì, contro un'ottima squadra, una delle candidate finale, venire qua a fare la nostra gara, potevamo sbloccarla in qualche occasione, è stato bravissimo Mennella, poi è aiutato anche da qualche legno, come poi alla fine siamo stati aiutati noi da una traversa che hanno preso loro da un tiro lontano, però Lachovara ha fatto una buona gara, è uscito dal campo con la maglia sudata e continuiamo sulla nostra strada. Qualcosina in più lo potevamo fare, ma veniamo anche da una serie di risultati positivi, quindi ci può stare che poi alla fine qualcosina lo lasci, però ancora non abbiamo subito gol e quindi va bene così. La partita è stata accesa, però anche sportivamente corretta, diversi gialli, un'espulsione, ma non sono mancate le proteste da parte vostra nei confronti dell'arbitro? Le proteste, l'arbitro fa parte della gara, mi sono un attimino lamentato perché in quell'occasione di contropiede ci ha fermato un'azione dove secondo me doveva lasciare proseguire e poi ammonire dopo, invece andando ad ammonire ha fermato una chiara occasione da gol e poi alla fine ha espulso il nostro capitano per un fallo, però la partita era finita. Ci sta, ok, però va bene così, fa parte della gara, in quell'occasione veramente non mi è piaciuto, per noi era un'occasione da gol importante.